Siamo a Mondo Fitness con Samantha Togni, stai per aspettare il mio turno, per la lezione, quindi quanto durerà la tua lezione, cosa insegnerai? Durerà più o meno un'ora, ma in realtà saranno 45-50 minuti perché daremo il tempo ai ragazzi di respirare un attimo tra una lezione e l'altra, saranno molte lezioni, siamo in tanti e quindi pure loro hanno il diritto giustamente di riposarsi un attimo. E anche quest'anno ballando con le stelle? Sì, domani iniziamo con le prove. Qualche anticipazione si può? Guardate, non ne so niente, nel senso quello che si legge sui giornali. Sai dove andare però a ballare? L'unica cosa che è certo, so dove andare e a che ora devo andare, tutto il resto lo scoprirò domani. È segreto. Quando comincia in tempo la... Il 4 ottobre sarà la prima diretta, il primo sabato in diretta, quindi siamo in ansia per questo evento. Presenta sempre? Millie, sempre lei. Come è andata l'estate? L'estate è stata per fortuna piena di impegno, ho lavorato molto, quindi la cosa è sempre un piacere, visto anche il periodo, è una fortuna lavorare. E un po' di vaganza che ci vuole ogni tanto. Un saluto a Canale 25 e tutte le persone che lo guardano, un bacio grande e insomma iniziate a ballare anche voi. Grazie.